Si realizza un sogno di vecchia data, l'alta velocità battipaglia è finalmente una realtà. A farlo sapere è il senatore Francesco Castiello. Devo rendere un caloroso ringraziamento al presidente Conte che ha dato sostegno alla mia pressante e insistita rivendicazione iniziata sin dalla primavera 2018. Devo ringraziare sentitamente anche Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato che mi ha dato in anteprima già da settimane la notizia dell'inaugurazione del servizio non solo ma anche della ragguardevole trasformazione della stazione ferroviaria che sarà modernata e arricchita. Un apprezzamento anche alla sindaca e all'amministrazione comunale di Battipaglia per avere realizzato una struttura intermodale che concorre egregiamente al miglioramento dell'assetto complessivo dei trasporti. La concessione di costruzione e gestione di un centro integrato di interscambio si origina dall'esigenza di integrare il trasporto su ferro e il trasporto su gomma. Nasce così la stazione degli autobus lato mare, unita alla stazione ferroviaria grazie ad un monumentale sovrappasso pedonale. L'intervento crea una cucitura di due parti della città già divisa dal fascio dei binari. In questo modo si consente a tutti gli utenti provenienti dal Cilento con autobus di accedere agevolmente alla stazione ferroviaria. Il centro integrato è dotato di circa 400 posti auto nell'area a monte della stazione ferroviaria e altrettanto interrati nell'area lato mare. L'intervento si arricchisce di un parcheggio autobus lunga sosta dotato di circa 15 stalli. Sempre nell'ambito della concessione è stata già ultimata la palazzina uffici dell'Inps ubicata sul lato mare. La struttura si completa con un edificio viaggiatori a destinazione commerciale e a servizi. L'intervento così ideato ed eseguito è stato corredato di una importante rete viaria di accesso sia a monte che a valle della ferrovia. L'ultimazione dei lavori è prevista a breve per l'inizio del nuovo anno.